Una volta ero a scuola e io e un mio amico stavamo ripassando per una verifica. Poi inizio a dire che la secchiona è una spiona e che non ha una vita sociale perché pensa solo alla scuola perché comunque io e lui avevamo intenzione di copiare tutto. Solo che poi mi giro e mi accorgo che lei era dietro di me. Che figura di M.